Buon quadro, aspetta, ecco, che storia, guarda, guarda, ma che è? Ah, si è diviso, si è diviso, guarda che sta, oh, uno è volato via. Guarda, 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 se sta a morire, se sta a morire, se sta a morire, io sono paura, guarda, ce n'è uno piccolo che gli gira intorno, guarda, sta scappando via, verso il lago, guarda, 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 guarda che storia, mamma, è andato. Guarda, 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 guard Grazie a tutti. Grazie a tutti.